L'ambulatorio post-covid si preoccupa di seguire i pazienti che hanno subito un ricovero a causa delle infezioni da SARS-CoV-2 e nella fascia di età tra i 17 e i 75 anni possono ricevere una rivalutazione clinica e anche una serie di indagini strumentali. Il primo è un elettrocardiogramma, seguire una emogasanalisi arteriosa, una spirometria basale e un test del cammino. A questo naturalmente segue la somministrazione di un paio di questionari, uno è soprattutto dedicato alla valutazione della dispnea e un altro che è stato redatto con la collaborazione degli psicologi ha invece più come obiettivo quello di valutare a tutto campo l'esperienza covid sia nell'ambito personale che quello familiare dei nostri pazienti.